Prove tecniche, siamo qui in esterni per iniziare, diciamo, questo incontro particolare, no? Diciamo incontro e non? E non? Bassa. E abbiamo detto di non. Qui abbiamo Bruno Nappi, il nostro regista, e il nostro maestro d'armi, che è un grande, vero? Abbiamo la nostra assistante, ecosome, vero? Abbiamo anche Morio, Morio! Siamo un po', come dire, sull'agitato andante, perché no? E quindi la giornata è splendida, c'è un... Guardate che meraviglia ragazzi, guardate il Vesuvio, giusto? Sì. Guardate il Vesuvio com'è, non so, guarda che cartolina che c'è. Noi adesso iniziamo e che Dio ce la mandi buona, giusto Bruno? Buonissima ce la manderà. Ce la manderà buona? Va bene, ora dobbiamo staccare perché non possiamo anticiparvi di più. Che dici Cristina? Non si può, non si può, non si può. Ciao.